salve amici di youtube ragazzi oggi bruni new 380 contro bruni magnum prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al mio canale iniziamo dalla bruni magnum in calibro 380 ovviamente vi anticipo che questo video non vuole denigrare o premiare un prodotto piuttosto che un altro all'ultimo metterò le le mie considerazioni personali però intanto vi anticipo che entrambi prodotti sono prodotti validi però vi vado a spiegare le peculiarità di entrambi i prodotti iniziamo con la bruni magnum la bruni magnum è la replica della colt python in questo caso abbiamo un revolver a salve in calibro 380 funziona in singola e in doppiazione e presenta un tamburo da sei colpi proprio come come la colt python vera però c'è una differenza importante ma anche il blocco del del tamburo che praticamente serve per non far girare a vuoto il tamburo se non andiamo ad armare o a sparare un'altra cosa che manca che c'è invece nei revolver veri in alcuni revolver a salve è una sorta di sicurezza automatica che va a tenere fermo il cane cioè tenere fermo il cane che non fa avanzare del tutto il cane se se non andiamo a sparare se il grilletto non è premuto infatti se vediamo il percussore adesso andando a premere manualmente il cane vediamo che il percussore avanza e se cade la pistola ed è carica si rischiano colpi accidentali ok non ci sono rischi pericolosissimi però comunque ci si può procurare un'ustione quindi un consiglio che vi do che dato che non ha il blocco al tamburo questa pistola è quella di maneggiarla esclusivamente quando è scarica se non ci dovete sparare oppure se dovete portarla in giro per un'escursione non caricate tutte e sei le camere di scoppio dato che non ha la la sicurezza al cane ma mettete soltanto cinque colpi magari gli altri voi ve li portate ve li portate spuse altri sei colpi comunque se non dovete utilizzarla subito non caricatela del tutto e attenzione alla camera di scoppio che mettete a cospetto del cane perché il tamburo non avendo il blocco del cilindro gira liberamente ragazzi adesso andiamo a caricare la pistola con tutti i sei colpi in questo caso perché ci dobbiamo sparare subito a posto chiudiamo e seguire eccoci qui dopo la prova di sparo quindi togliamo i vostri già sparati vediamo anche l'estrattore ancora funziona abbastanza bene e vi dico che impressioni da prima cosa l'affidabilità è parese perché è da sette anni che ho questa replica ed è da sette anni che mi ha sempre sparato tutti i colpi e di colpi ne ha sparati centinaia quindi per essere una pistola salve veramente molto affidabile ok forse voi direte vabbè ma non c'è da stupire un revolver sì però se un revolver non è affidabile alla fine i meccanismi vengono meno difficilmente si inceppa con il colpo tra carrello e canna perché appunto non ha carrello e caricatore come la semiautomatica in teoria basta premere il grilletto gira il tamburo e il cane picchia sul percussore e spara però se non c'è manutenzione o se un revolver non è affidabile alla fine si vanno a rompere altri meccanismi e lì c'è da fare lavoro di armeria ma in un prossimo video poi vi spiegherò vari inceppamenti sia dei revolver sia delle pistole semiautomatiche a salve in cui poi vi spiegherò come come risolverli e magari anche come intervenire per sistemare comunque continuando su questo discorso le impressioni di età sono buone il rumore è un po anonimo però comunque gradevole e vediamo che il grilletto in doppia azione però è un po' duro nulla di esagerato come la bruni olympic però è uno scatto abbastanza duro in doppia azione invece in singola azione non è morbidissimo ma comunque accettabile non vi costringe a fare grandi sforzi fai il suo dovere ecco questo è la frase giusta per questa pistola fai il suo dovere adesso passiamo alla bruni new 380 la bruni new è sempre in calibro 380 ma ha delle caratteristiche tecniche in più rispetto alla bruni magnum allora prima cosa porta un tamburo da 5 colpi ma vi vado a spiegare perché anche caricando cinque colpi se non si deve utilizzare subito è comunque sicura perché prima cosa presenta una sicurezza automatica al cane quindi cosa succede se non premiamo il grilletto il cane non avanzerà mai a tal punto da toccare il percussore quindi non può mai permettere lo sparo accidentalmente se il grilletto è premuto invece vediamo che il cane avanza del tutto fino a toccare il percussore però guardate cosa succede quando vado a rilasciare il grilletto il cane arretra di qualche millimetro mettendo così la replica in sicurezza un'altra caratteristica tecnica in più è il blocco del tamburo o del cilindro in che cosa consiste questo perno si va a mettere negli ingranaggi del tamburo quindi se noi non premiamo il grilletto il tamburo da solo non può girare di conseguenza è ancora più difficile che ci siano spari accidentali quindi anche da anche una sensazione di realismo in più possiamo anche decidere di caricare non tutte e cinque le camere di scoppio e di mettere al cospetto del percussore la camera vuota e non accadrà mai che per sbaglio si vada ad inserire davanti al percussore la camera di scoppio piena quindi ha molte caratteristiche tecniche in più l'affidabilità nel tempo ragazzi non non posso spiegarvela perché ce l'ho da pochi mesi quindi deve passare qualche anno prima prima di parlare di affidabilità comunque la qualità è ottima comunque andiamola a caricare così vi porto a fare la prova di sparo carichiamo tutti e cinque possoli ovviamente seguitemi ed eccoci qui dopo la prova di sparo prima cosa andiamo a togliere i bossoli già sparati e già possiamo vedere che all'estrattore migliore in quanto fuoriuscendo di più permette un'espulsione più rapida dei bossoli già sparati come avete potuto sentire il botto è leggermente diverso da quello della bruni magnum perché questo anche se usato proiettili appunto dello stesso calibro e della stessa marca la differenza sta nel fatto che qui c'è lo sfiato del top firing mentre la bruni magnum spara lateralmente non ha lo sfiato escono direttamente dal tamburo i gas invece qui avendo lo sfiato quindi un po di canna un inizio di canna libera perché poi davanti c'è il tappo rosso quindi metà canna è otturata e metà è libera il rumore si propaga diversamente ed esce uno sparo più gradevole anche più realistico quindi anche nel botto l'ho trovata migliore lo scatto del grilletto ragazzi come avete potuto notare vi ho fatto l'inquadratura a fianco per farvi notare quanto poco si muove la pistola anche in doppia azione lo scatto del grilletto sia in doppia azione che in singola azione è leggero in doppia azione fa poca resistenza essendo un revolver non può essere morbido come quello di una semiautomatica ma in singola azione ragazzi basta veramente una minima pressione e subito permette lo sparo è veramente fatta bene ed è di ottima fattura adesso vi vado a spiegare secondo me qual è la migliore ragazzi premetto che entrambi i revolver sono molto validi sono prodotti veramente fatti bene ovviamente come caratteristiche tecniche e come scatto preferisco la bruni la bruni new 380 molta tecnicamente è fatta meglio a un rumore migliore anche se differisce di poco dalla bruni magnum è anche un'ergonomia migliore perché qui vediamo che ha lo spazio per le dita si impugna meglio invece questa qui l'ergonomia lascia un po a desiderare nella bruni magnum che è vero che è bello il calcio in legno però non avendo delle ziglinature può risultare scivoloso in più di qualche escursione infatti un po lo scatto leggermente duro è un po l'impugnatura completamente liscia in doppiazione mi hanno creato qualche problema però ovviamente una pistola salda non è che dobbiamo umilare quindi che si muove un po di più non è un problema però l'ergonomia lascia un po a desiderare questo lo devo ammettere detto questo ragazzi vi anticipo una cosa che ho aperto un secondo canale che dei motori ancora non ha un video però è un'altra mia grande passione che vorrei condividere con voi quindi se tra i miei iscritti di qui ci sono persone interessate al mondo dei motori mi invito ad iscrivervi perché tra breve inizieranno ad uscire del video se il video è di vostro gradimento mettete un like e iscrivetevi un saluto al prossimo video ciao